Gentili telespettatori, buona giornata. Matteo Bassetti, l'infettivologo del San Martino di Genova, diventato volto popolare durante il Covid, viene multato dalla polizia locale di Genova per la musica troppo alta proveniente dal suo appartamento. E' stato lo stesso Bassetti a renderlo noto, sfogandosi in un video sui social. Mi è stato fatto un ammonimento perché alle 23.30 festeggiavo il compleanno di mio figlio a casa. Questa è Genova, questa è l'Italia. Poi è aggiunto, sono stato ammonito dalla polizia municipale che è venuta a suonare alla porta dicendomi che la musica era troppo elevata, musica leggerissima da cittadino, lo stesso tipo di trattamento avrebbero, se quello che ho fatto fosse avvenuto nei vicoli della città, in via del campo o in via pre, la sensazione è che si sa essere deboli coi forti, ma molto forti coi deboli. E questa non è la città in cui vorrei vivere. Voglio rassicurare il professor Bassetti e tutti i cittadini che la polizia locale opera con equità e professionalità in ogni quartiere, senza distinzioni. L'intervento è avvenuto a seguito di un esposto in cui si lamentava l'impossibilità di riposo a causa del volume elevato della musica, dichiarato l'assessore comunale alla polizia locale Sergio Gambino rispondendo alla polemica di Bassetti. Grazie a tutti e arrivederci a presto.